Valeria, tre anni, andare con Marco in piscina è più bello perché somiglia di più ad un papà e nessuno fa domande. Conversazione fra Francesca e Martina. Oh, a me con questi denti da castoro non mi si piglia nessuno perché a me con questi denti neri tutti marci e puzzosi. Alessio, sette anni. Nella nuova famiglia ho una zia e persino un nonno. Sara, otto anni. Io e Valerio abbiamo la stessa saliva, siamo fratelli adesso, ma non nella nuova famiglia. Jason, tre anni. Io gioco solo con Edoardo perché è maschio. Le femmine sono tutte cattive. Luca, otto anni. Nessuno è mai andato al supermercato per comprare la mia cioccolata preferita, solo per me. Martina, cinque anni. Avrò una camera tutta mia quando avrò una famiglia nuova. Da qualche parte, sopra l'arcobaleno, proprio lassù, ci sono i sogni che hai fatto. Da qualche parte, sopra l'arcobaleno, volano uccelli blu e i sogni che hai fatto, i sogni, diventano davvero realtà. Grazie a tutti.